Sono stati rinviati a giudizio i 355 imputati che hanno optato per il rito ordinario del maxiprocesso rinascita Scott istituito dalla direzione di Sertuale Antimafio di Catanzaro diretta da Nicola Gratteri contro le cosche d'Indrangheta del Vibonese e i loro sodali, tra i quali esponenti del mondo politico e dell'imprenditoria. Il maxiprocesso avrà inizio il 13 gennaio davanti al Tribunale di Vibo Valencia nell'Avola Bunker allestita nel Pone Industriale di Lamezia Terme che a breve verrà ultimata. Sono 89 invece gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Per loro il processo inizierà a Lamezia il prossimo 27 gennaio. Agli imputati rinviati a giudizio si uniranno le posizioni dell'Avvocato ed ex parlamentare Giancarlo Pittelli, l'imprenditore Mario Lorigio, l'ex sindaco di Nicola Salvatore Rizzo e l'Avvocato Giulio Calabretta che hanno chiesto il giudizio immediato. Rinviato a giudizio tra gli altri anche l'ex consigliere regionale Nicola Adamo accusato di traffico di influenze illecite. Tra gli imputati c'è anche l'ex assessore regionale Luigi Incarnato e l'ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo. Gli imputati dovranno rispondere a un vario titolo di oltre 400 capi di imputazione tra i quali associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, tentato omicidio, omicidio, estorsione, detenzione illegale di armi ed esplosivo, ricettazione, traffico di influenze illecite, rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio, abuso d'ufficio aggravato e traffico di droga.